Siamo tornati a trovare il presidente Giorgio Lacava in una bellissima location tra l'altro. Troppo gentile. Allora presidente partiamo da questo primo turno dei playoff, c'è stata subito, non so se chiamarla sorpresa, il Siena battuto in casa dal Novara e se l'aspettava? Beh una sorpresa c'è sempre al primo turno dei playoff, questa volta è toccato al Siena, noi abbiamo il Novara che come ho detto ieri a un tuo collega che mi ha chiamato dopo la partita, è un osso duro veramente, una squadra ho visto d'esperienza, quindi io spero molto che il loro recupero non sia al 100%, perché in ogni caso ieri hanno speso, anche se non era una giornata calda, però da un punto di vista anche di psicologico, hanno speso parecchio ieri ho visto, quindi speriamo che arriveranno un attimino scarichi da noi. Al di là delle posizioni finali in classifica, non si può non notare, hanno in rosa qualche nome, non solo Caccia, ma c'è Gonzales, ci sono giocatori che comunque hanno fatto molto bene in carriera, al di là dell'età. Sì, sì, ma hanno anche giocatori molto validi, quindi sarà veramente una partita molto difficile, speriamo, come dicevo ieri l'Arezzo deve giocare ad Arezzo, quindi se gestisce il risultato sarebbe la cosa più folle e peggiore, quindi io sono molto convinto che loro giocheranno ad Arezzo e quindi come con tutte le squadre con cui abbiamo giocato per vincere. Questa formula, ogni volta che succede questo, che la squadra peggio classificata si qualifica, viene un po' criticata, si dice che non è molto giusto, che magari per una partita sbagliata si manda in fumo tutta la stagione. Lei la cambierebbe questo regolamento? Ma scambierebbe, è chiaro, è un regolamento che per una partita, come dici te, ti ritrovi a avere un risultato su tre, però è chiaro, anche la classifica un po' di merito Caccia deve averla e quindi per me da questo punto di vista è una regola giusta. L'incoraggiante è che l'Arezzo, al contrario di due anni fa, quando fu eliminato al primo turno della Lucchese, allora era una squadra comunque in caduta, in crisi, invece qui l'Arezzo ha chiuso benissimo il campionato, questo è incoraggiante. Questo sì, la squadra mi dice sia Armando che Emiliano, è in salute e quindi da questo punto di vista miglior playoff per iniziare non ci poteva essere, quindi speriamo bene, dai. Quante possibilità, è fiducioso almeno che l'Arezzo possa andare alla fase nazionale? Sì, beh, quello sarebbe un grandissimo obiettivo raggiunto, quindi ci spero, dico la verità molto, e quindi speriamo che mercoledì, giocando alle 20.30, perché neanche voglio pensare un orario diverso, perché sarebbe veramente una cosa assurda, nel senso che c'è grande attesa, come mi dicono in città, per questa partita e giocarla nel pomeriggio per giorni televisivi, sarebbe veramente una cosa che non sopporterei. Però, ripeto, voglio dirlo anche a tutti i tifosi che ci ascoltano, che noi siamo passivi in questa situazione, nel senso che è la Lega che decide gli orari. Così come il discorso dei biglietti, ho sentito che qualche commento dei tifosi o della società si doveva muovere prima. Noi diamo solo il campo, cioè l'organizzazione della Lega propria, dei playoff. L'Arezzo ha fatto una grande stagione, a prescindere dal certo conta, poi tutti adesso stiamo guardando quello che accade ai playoff, però onestamente grande calcio e anche qualche rimpianto, perché poteva andare ancora meglio. Sì, beh, i rimpianti nel calcio ci sono sempre, basta che vedevi le due semifinali Champions League pochi giorni fa, i rimpianti, penso che il Barcellona e l'Ajax ce ne avranno parecchi. Però, dico, noi abbiamo fatto un campionato che, meglio di così, nessuno poteva scommettere a un quarto posto e poi, oltre che in quarto posto, un gioco il migliore della Lega Pro. Io mi ricordo che ero in treno, tornando da Roma, mi chiamò un giornalista, aveva un numero di Alessandri addirittura, e risposi e mi disse, scusi Presidente, se la disturbo, volevo solo dirle che ho visto l'Arezzo e Alessandri, la miglior squadra che è venuta a giocare da noi. E questo mi ha fatto molto piacere. Nei play-off il bel gioco, perché anche D'Alcanto ha detto, adesso basti i complementi benissimo, però adesso sarebbero vani, bisogna anche essere per pratici. Quindi esiste anche un dibattito, anche a livello di Serie A, tra il bel gioco e la praticità. A me sembra che questa squadra negli ultimi tempi sia diventata più cinica, e quindi questo ha fatto un gioco meno brillante, però ha fatto risultati importanti. Quindi mi sembra che sta, come dice giustamente il mister, poi i risultati sono quelli che contano. E quindi mi sembra che da questo punto di vista la squadra sia più cinica e meno bella. C'è stata un'intervista di Armando Piegoni a Sporta Chilometro Azzaro, ha detto che nei contratti dei giocatori non c'erano premi salvezza, ci sono invece premi play-off, premi promozione, è così? Eh, scusate, se te l'ha detto Armando è vero. Non è che, diciamo che siamo ben felici di pagarli, è chiaro, li abbiamo messi per incentivare un po' tutti, quindi adesso vediamo come vanno questi play-off. Nella mente di un calciatore, al di là dell'attaccamento che può dare alla maglia, questa componente incide, può incidere? Incide su tutti, non solo sui calciatori, penso su qualsiasi professionista che lavora, se raggiunge come è giusto certi obiettivi. Con Dalcanto si può aprire un ciclo? Beh, Dalcanto ha un altro anno di contratto e mi sembra che la società addirittura c'è l'opzione del terzo, quindi ci mancherebbe, siamo soddisfatti e quindi penso che la squadra cresce, come abbiamo detto, e quindi penso che il lavoro continuerà, come sappiamo. Contento della piazza? All'inizio c'era un po' qualche, anche all'inizio della campagna, un po' abbonamenti, visto che c'era stato qualche rallentamento, poi l'entusiasmo adesso c'è, ci si aspettano dei numeri un po' diversi per queste partite? Beh, speriamo. Determinanti sono gli orari, perché come voglio tornare sul discorso di mercoledì, mercoledì cioè, guarda, tra un'oretta e mezza sapremo l'orario, verso le 11 la Lega dovrebbe dire gli orari. Ho parlato stamattina con Zinci, mi ha serenato, quindi speriamo che le 20 e 30, perché farle il pomeriggio sarebbe veramente un controsenso e un danno, non solo per l'Arezzo, ma anche per la Lega, perché ricordiamoci che gli incassi dei play-off, anche la Lega ha una quota importante che prende. Questa era l'ipotesi che vociperava fin dalla domenica della gara in notturno. Sì, sì, ma penso che non ci siano problemi, quindi speriamo che saremo tutti lati fare alle 20 e 30 al comunale. Un cammino che comunque speriamo che sia lungo per l'Arezzo, poi ci sarebbe l'ultima partita interna al girone, in base poi all'altro risultato, e poi l'accesso, come le vede le squadre, al di là che ancora non sappiamo quali saranno le qualificate, però ci sono anche lì squadre che... Però come giustamente sento, ed è quello un commento giusto, si apre un altro campionato, quindi la squadra anche che era più in forma a fine campionato, può essere che tra 20 giorni non lo è, quindi è veramente un terno all'otto. Bisogna essere sempre concentrati, come siamo noi, entrare al secondo turno, a parere mio, è il miglior turno dove una squadra può entrare, perché si riposa, ma non sta neanche tanto ferma come stanno quelli che sono arrivati secondi o terzi, quindi speriamo che... E poi incontra una squadra che quattro giorni prima ha fatto già una partita, quindi da quel punto di vista entrare al secondo turno è un'ottima cosa. Faceva notare a Maranto Magazine che da quando si è insediata questa società, in questo anno, insomma, sommando i punti dell'anno scorso, da quando più o meno ci siete, i punti di quest'anno, insomma, è un bottino notevolissimo. Sì, lo dissi io a Andrea quando mi chiamò per l'intervista venerdì, ho detto, guarda, solo per una curiosità che se tu fai i conti, quanti punti abbiamo fatto, infatti erano, mi sembra, sopra 85, adesso non mi ricordo quanti, e quindi considerando che noi siamo arrivati a Marzo, perché poi con l'esertizio provvisorio, diciamo, anche se la società poi è nata effettivamente ad aprile, però penso che una media, se dividi per mesi, è molto molto alta di punti. Nella riforma di cui si parla per la prossima stagione, diciamo tra l'ipotesi, che poi non è un'ipotesi, è quello che è stato detto anche dal Presidente Lega Ghirelli, da una parte il limite ai prestiti dalle scuole di serie B, e valorizzare soprattutto per avere gli incentivi del proprio settore giovanile. È una direzione giusta? È una direzione giusta, però questo implica giustamente parecchi investimenti, e quindi per me è molto giusta, però è chiaro, poi devi fare i conti, perché nel settore giovanile tutti si riempiono la bocca, però dopo bisogna fare investimenti importanti. Noi qualcosa quest'anno con tranquillità l'abbiamo fatta, speriamo che quest'altro anno in Rosa ci sarà qualche giocatore che quest'anno stava in Beretti, questo ci spero molto, ma dovrebbero andare via il ritiro a Bagnoli Romagna, sicuramente un paio di elementi, poi ci tornano altri elementi che sono andati in prestito, quindi speriamo che i giovani, perché intanto la Lega Pro tu vai avanti con i giovani, cercando poi di riuscire a metterlo qualcuno sul mercato e venderlo. Quindi il ritiro sarà Bagnoli Romagna? Sì, sì, Bagnoli Romagna già l'avevamo fissato dall'anno scorso. I rapporti, insomma, si è trovato bene? Molto, tutta la squadra, lo staff, poi è stato un ritiro fortunato considerando il campionato che hai fatto, anche quelle sono cose importanti, penso che se lo dici a Pieroni, che è molto più superstizioso di me, ed è difficile esserlo molto più superstizioso di me, lui sempre anche con le squadre dove andava, se l'anno calcistico andava bene, riconfermava sempre quel ritiro. Quindi è superstizioso? Io parecchio, lo sanno tutti. C'è qualcosa che fa più delle partite? Qualcosa che faccio no, però ecco, io sono, basta vedo che certe cose succedono sempre in certe date, quindi io sono super... poi è noto e qualcuno ti dice, ma dai, ne esiste, però ognuno è libero di esserlo o non esserlo, io lo sono. Sempre in compagnia del presidente Giorgio Lacava, si parlava di giovani, la Ghezzo ne ha valorizzati comunque, anche quelli che sono della Ghezzo, e quelli che non sono della Ghezzo. Sì, abbiamo avuto, parli chiaramente di prima squadra, noi adesso abbiamo dei giocatori che in questo momento, però come richiesta di mercato, prima intanto sappiamo tutto nel mercato di gennaio, quando dovevamo vendere sia Basite e Buglio, poi per un po' di circostanze la vendita non è avvenuta, ma sono anche contento perché hanno dato un apporto importante a questa squadra, però adesso anche altri giocatori ce li chiedono, è abbastanza anche visto bene Borghini, dopo le ottime prestazioni, anche condita con, mi sembra un paio di gol che ha fatto, quindi anche Borghini è seguito. Quindi la Ghezzo potrà valorizzare, potrà monetizzare anche da alcune cessioni? Eh sì, beh, è importante, è vitale non per la Ghezzo, ma come ho detto per le società che stanno in questa Liga Pro, che purtroppo è, come dico io, un bagno di sangue. Soprattutto con Basite si potrà riprendere di questi discorsi avviati con quelle squadre o c'è altre ipotesi, si era parlato del Milan? Sì, beh, no, ci sono altre squadre, poi con il Genova non se ne fece nulla, però il giocatore, ci sono parecchie squadre che lo seguono, quindi adesso il mercato, vabbè, ancora non apre, però già ci sono buoni contatti. Ecco, su Basite c'è stato poi un cosa ha deciso, la procura, la procura, io penso, io faccio solo sto commento, con tutte le magagne che ci sono in Liga Pro, sinceramente, fare un'indagine su una cosa che neanche si è capita, perché poi Basite è rimasto all'Arezzo, quindi parliamo del nulla, neanche io l'ho capita, però l'unica cosa che mi conforta è che, parlando giornalmente con l'avvocato Chiacchio, che è il nostro legale dell'Arezzo Calcio, mi ha detto che è molto tranquillo, e che quindi lui pensa addirittura che là il tutto sarà archiviato. Io parlai in quei giorni con uno degli ex vicecappi dell'ufficio indagini della FIGC e rimase veramente sgomento, non devi dire Basito, perché ha attaccato Basito, Basito, e mi continuava a chiedere sì, ma dov'è il problema? E dico, non lo so, me lo dica lei, visto che è stato in quegli uffici, ha stonato sia, perché comunque anche in Serie A vediamo affari di milionari con i procuratori, nessuno dice niente, e più in una serie dove è stato permesso il caso Propiacenza, non sembrava che a me... Forse solo le Propiacenza, Matera, troppi cenai, dei casi strani, atipici, cose importanti che però sono state emesse, vabbè, però diciamo anche che questo non è stato un caso, più che altro ci hanno sentito, poi l'indagine è stata chiusa, non è che l'indagine giustamente aperta, adesso come ti ho detto siamo sereni, quindi speriamo che tutto... Però ecco, andrà anche, penso un po' le lunghe, penso verso settembre, ottobre si saprà qualcosa. A proposito di serenità, hai detto sempre da Maranto Magazine i rapporti con Massimo Anselmi sono migliorati. Sì, ormai purtroppo quando uno sta in mezzo alla società succedono questi disguidi, queste situazioni e quindi si è rasserenato il rapporto con Massimo, io dico ultimamente ci sentiamo purtroppo anche poco, anch'io so, sento giusto Pieroni, Testini perché per ragioni mie di lavoro sto spesso a Roma e quindi devo stare molto là adesso questo periodo. Però ecco, la cosa importante è anche da un punto di vista specialmente umano che si doveva risolvere perché come ho sempre detto Massimo Anselmi io lo considero un'ottima persona quindi mi dispiaceva anche queste problematiche avute. Però penso che ormai è tutto superato adesso ci dobbiamo concentrare sui play-off e poi pensare alle altre cose. Comunque questa nuova diciamo come possiamo dire assetto societario a livello decisionale è forse quello migliore? Cioè io amministratore unico ma giustamente in quello mi sembra Cucinello ha detto giustamente la cava la cava al 79% penso che in questo momento sia la migliore. È chiaro che poi io ascolto tutti perché se mi danno consigli che reputo giusti li accolgo e quindi non è che è cambiato molto. Ecco poi pensai mi aveva parlato di armonizzazione diciamo delle quote è un percorso possibile nel senso che mi sa che stai d'accordo? Non lo so ho parlato con Massimo adesso la nostra priorità è vedere questi play-off perché poi da play-off può succedere di tutto e di più speriamo di più però dopo vedremo il che da farsi tu sai che abbiamo scadenze importanti a giugno quest'anno non ci sono deroghe perché come spesso in Italia succede si passa da essere troppo tolleranti a tolleranza zero e quindi adesso bisogna veramente far sì che tutto vada bene per essere tranquilli a giugno. Ecco queste cessioni potrebbero diciamo non dico azzerare ma insomma sì azzerare però per l'anno dopo nel senso no per l'anno dopo per l'anno dopo intendo calcistico cioè dal primo luglio 2019 è chiaro se tu sai che hai in portafoglio già delle vendite praticamente come hai detto te potenzialmente le azzera perché se tu hai venduto a uno hai speso uno uno meno uno fa zero e quindi insomma vedremo certo a oggi immagino anche per chi deve deve a questo impegno non è cosa la poco vabbè come tutti i presidenti della Lega Pro perché come ho detto allora vabbè serie A neanche ne parliamo ma già anche serie B è tutta un altro mondo cioè noi parliamo di incentivi mi sembra quest'altro anno dovrebbero le televisioni dovrebbero dare sui 5 milioni 5 milioni e 2 di incentivi cioè se tu fai una squadra chiaramente non per vincere che lanci giovani rischi che veramente non ci metti in euro sulla squadra tua di proprietà e poi quella è la cosa più bella e più importante per uno come me che penso ormai l'hanno capito tutti anche i sassi è venuto solo per passione perché io non ho mai che ho chiesto ad Arezzo per lavoro ah sì faccio questo però sì faccio questo però io non ho mai chiesto nulla a nessuno e quindi è così perché sono appassionato alle calci i playoff a seconda dell'esito cambieranno qualcosa per la sua volontà di rimanere o non cambiano niente? io penso che poi come ti ho detto adesso dobbiamo fare i playoff e poi serenamente uno discuterà il tutto tra soci cioè tra me Massimo e quindi sì vabbè orgoglio istituzionale come socio però non penso che vadano incidere dobbiamo vedere tante cose ma ti ho detto adesso ormai uno la testa ce l'ha solo là e speriamo che ce l'avrà per tanti giorni settimane in questo periodo non si è fatto avanti nessuno per aiutare come socio di minoranza ma io ho detto proprio anzi devo dire che Andrea Vato che è sempre molto preciso un giornalista serio ci mancherebbe altro sull'intervista che mi ha fatto si parlava di quel famoso consorzio che forse sull'entusiasmo della festa come dico io di Piazza Grande stava maturando l'idea però ecco vorrei fare un inciso perché forse non è stata riportata bene anche perché quando mi ha telefonato era un mezzo al traffico di Roma non si sentiva assolutamente nulla e l'inciso è questo cioè che io volevo dire ad Avato almeno ripeto quello che gli ho detto che almeno ad Amaranto magazine ovvero che dopo questa festa a Piazza Grande c'era grande entusiasmo io ho pensato c'è una nuova società con un presidente pieno di entusiasmo che pensa come ho detto un minuto fa solo al calcio allo sviluppo calcistico dell'SS Arezzo c'è un socio aretino che un socio aretino dentro l'SS Arezzo penso voi lo sapete meglio di me decenni passavano c'è un 1% dell'orgoglio Amaranto che oltre che aver salvato il calcio con l'esercizio provvisorio è un importante fetta alla tifoseria aretina io pensavo si era prospettato con diciamo persone molto importanti grandi imprenditori di Arezzo che facevano un consorzio non entravano in società un consorzio tipo Amici dell'Arezzo sto facendo un esempio dove loro ti dicevano ogni anno tot euro come sponsor per tre anni ti diciamo almeno voi sapete bene come pianificare le cose questo sarebbe stato come un ulteriore incentivo e così come ho detto tu potevi quasi creare una piccola spalla ovvero potevi subito lottare per andare in serie B e poi chissà che succedeva ecco questo è il mio unico crucio poi Avato dice anche c'è sempre tempo però io penso che ormai il tempo è scaduto perché ormai questa questa richiesta diciamo più che richiesta era veramente in sogno una cosa bellissima per i tifosi perché veramente costruivi una società forte che aveva l'ambizione non di andare in serie A in serie B ma dopo un po' di anni andare in serie A questa è l'unica cosa che mi è dispiaciuto ma ormai penso che i tempi sono scaduti perché questa questa storia parlavamo di andare agosto settembre però 2018 ormai è quasi passato un anno quindi penso che se non c'è interesse da parte di questi imprenditori importanti per fare questo consorzio in questo momento per una società che ha fatto un quarto posto insperato che ha dei giovani in portafoglio che ha cercato anche di far ripartire le strutture un po' tutto vuol dire che ma io sono sereno perché come dico i soldi chi li mette il calcio li mette o per altri fini o perché ha passione se poi non ha queste due cose giustamente preferisce avere una barca da 50 metri ci mancherebbe altro ognuno dei soldi fa quello che vuole dei suoi si va con la spiegazione del perché poi non è andata in porto perché come ti ho detto c'è molta gente che il calcio è una passione cioè il calcio non è una cosa semplice però loro neanche dovevano entrare era come un consorzio a parte che con delle sponsorizzazioni con contratto trionnale tu sapevi che avevi una base da partire ogni anno eccetto gli sponsor quelli classici di un milione d'euro e con quello con un milione euro in più che tu sai il milione poi alla fine diciamo della fiera la lega ti dà un altro milione sei a due poi con qualche vendita dei giocatori con gli sponsor normali puoi fare un bel budget t'ho fatto in due parole i conti diciamo grazie ultime domande il comune di Arezzo che l'anno scorso ha fatto insomma ha seguito tutta la storia poteva essere un po' più presente assolutamente no perché io devo dire la verità forse è anche una negligenza mia però purtroppo io c'ho sempre tanto da fare tra calcio e cose mie forse dovevo qualche volta anch'io sentire più la Nissini o il sindaco nel senso che c'è stato questo all'inizio sembrava una problematica sulle luci perché tu sai che adesso abbiamo anche quest'altra situazione ovvero per regolamenti UEFA bisogna rifare tot seggiolini mi sembra sono sui 2700 allo stadio e l'illuminazione che deve avere bisogna rifarla per raggiungere certi tot di illuminazione adesso non mi ricordo neanche il termine tecnico però devi rifare l'impianto e siamo stati col sindaco è stato veramente con la Nissini hanno capito la situazione perché adesso considerando tutte le spese che uno ha se ti dovevi accollare anche l'impianto della luce che costa mi sembra 110 più viva una cosa del genere iniziava a essere una voce molto molto pesante penso che abbiamo come ho detto anche altri due colleghi che ha raggiunto un accordo dovrebbero darci sui 120.000 euro per fare sia noi sia i seggiolini che questo impianto anzi sarà un impianto molto innovativo perché i led non saranno solo per le luci diciamo dello stadio ma per tutti per tutto lo stadio quindi uffici spogliatoi e questo a livello di bolletta ti consente un consumo inferiore di un 35-40% che per noi sono soldi tanti perché veramente si pagano delle bollette da infarto tra le persone che ha conosciuto bene in questa stagione abbiamo visto varie volte l'ex presidente Mancini e anche rapporto è nato ma io è stato subito un rapporto molto bello perché è un po' diretto come me devo dire ho trovato un po' poi ognuno è fatto a modo suo chiaramente però è uno diretto che dice le cose e poi mi sembra che anche lui purtroppo aperte virgolette chiuse virgolette ha un po' la passione del calcio e quindi è stato molto gentile è stata una delle prime telefonate quando siamo arrivati al quarto posto che lui mi ha fatto mi sembra addirittura che non era neanche in Italia mi ha fatto molto piacere mi è stato vicino anche in quei momenti verso settembre ottobre quando si anche là è un po' come il caso Basitte non ho capito neanche di che si parlava però vabbè quando si parlava della società della cessione a un gruppo quello che doveva entrare con noi all'inizio però ecco però lui è sempre disponibile mi carica sempre quindi io è stata una delle prime persone che ho conosciuto mi invitò a cena e quindi è una persona che reputo come me uno passionale per il calcio e quindi è una persona che mi piace non avrebbe le potenzialità per darle una mano anche ma lo so io non lo so questo perché sinceramente non ne abbiamo veramente è un rapporto si parla solo come dice di calcio ma di calcio quello diciamo ho giocato ho visto Mancini non lo so adesso penso che lui proprio dal calcio sia fuori almeno per questo periodo però come ho detto la gente che poi c'ha il vizio del calcio prima o poi ci ricasco non lo so però dico io una previsione potrebbe anche essere non Arezzo però dico prima o poi ci ricasco e quello è un vizio un po' brutto da levare ha citato questo gruppo che viene spesso identificato con Monte San Savino dell'inizio che voleva entrare c'erano voci anche negli ultimi mesi di un ritorno di un tentativo c'è qualcosa di vero o no? beh noi adesso questo sono molto contento ho un ottimo rapporto e ci ha anche aiutato e questo lo devo ringraziare pubblicamente Jacomoni che si sente spesso con Ermanno Pieroioni hanno un ottimo rapporto creato anche da Ceccherini che lavora con noi nello staff del Giovanile dell'Arezzo e quindi anche lui massima disponibilità però Jacomoni veramente ha tanto tanto da fare è difficile anche parlarci perché lui sta fortunatamente lavorando molto e quindi sta quasi sempre fuori però lui è un appassionato specialmente del settore giovanile come ho detto adesso bisogna finire sto campionato poi pianificando se Jacomoni entrasse o da una mano io so sarei molto contento perché è una persona squisita sempre posata che non spende più di una parola e quindi sono le persone che a me piacciono in grande ascesa imprenditoriale molto in grande ascesa e gli faccio veramente gli auguri di cuore perché se lo merito infatti sì l'indiscrizione era legata proprio al settore giovanile cioè il suo interesse era su quello è sempre stato diciamo anche quando nei mesi scorsi è sempre stato un appassionato diciamo del settore giovanile e quindi insomma un aiuto tra l'altro se venisse entrasse diciamo entrasse se adesso è una mano lui poi magari ne entra un altro chissà che questa cooperativa questa piccola spalla si riesce a fare magari come la dico io piccola spalla per dire che prima devi pensare la serie B e dopo la serie A piccola nascerà quello perché anzi Arezzo a parere mio c'ha anche da un punto di vista calcistico più anche la spalla però ecco era piccola spalla per dire prima vai in serie B e dopo cerchi di andare in serie A e questo insomma riaccenderebbe tanti entusiasmi anche ma io penso che gli entusiasmi sono accesi perché dopo un anno così dopo quello che l'anno scorso si rischiava che l'Arezzo giocava in prima categoria cioè io penso che a questa società ma non perché sia io il presidente uno non può dire assolutamente nulla anzi proprio dovrebbero fargli solo i complimenti tutto il giorno ripeto non perché io sono il socio di maggioranza io lo vedo dal di fuori come se io non fossi il socio di maggioranza